Siamo per cominciare, il primo pilota che parte è il giovanissimo Leon Cagnan, che parte sulla Aprilia RSV4. Il primo pilota è giovanissimo. Ecco qui, i partitori partiranno in un intervallo di tre minuti. Eccolo! 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 In questo momento è partito Michel Patrizio! Giulia! Giulia! Sta arrivando, Leo dell'Aslant! E noi lo svolgiamo con un aspetto qui sull'auto, San Marino, con la ferita che si sente il motore. Questo Superbike Prologue, ecco in arrivo, e in un moto. Lo facciamo! Eccolo qua, per un ventaglato in questo momento, c'è un fotografico che continua, tra i salti della morte qua. Buongiorno! 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.